Tassa sui rifiuti meno salata in tutta Italia. Il calo maggiore si è registrato a Palermo, con il 10,9% della tariffa scesa a 273,76 euro dai 307 di quattro anni fa. Secondo i dati che si riferiscono al 2017, le famiglie italiane spenderanno una media di 295 euro a fronte dei 300 dello scorso anno. In quattro anni, però, la tassa ha registrato un incremento dell'1,1%. In valori assoluti, nel 2017, spiega il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi, il costo maggiore della Tari si registra ad Agrigento con 474 euro l'anno. A Pisa se ne pagano 473, a Benevento 470, a Siracusa 466, a Salerno 462. Il podio per le città più economiche spetta a Pordenone con 184 euro, Verona con 188 e Bolzano 190. A fare i conti, come di consueto, la UIL Servizio Politiche Territoriali, elaborando i costi di 100 città capoluogo di provincia per una famiglia, con una casa di circa 80 metri quadri, quattro componenti e un reddito ISEE di 17.812 euro. Tra le grandi città, a Roma si è registrato in quattro anni un calo del 4,7%, a Milano un lievo aumento dello 0,5%, a Torino l'aumento più consistente, il 34,1%, da 245 euro si è passati a ben 328.